il norvegese Solbakken all'esordio da titolare ci tengo a specificarlo perché aveva già esordito con la maglia della Roma ma da titolare fa il gol dell'1 a 0 e fa il gol ragazzi appunto della vittoria 1 a 0 di Mourinho Roma che non prende il gol a Roma che è una delle migliori difese di questo in campionato e che comunque risponde presente a Lazio Milan Inter tutte le squadre che sono lì che si stanno lottando un posto Champions una partita non semplice innanzitutto perché il Verona veniva da tanti risultati utili consecutivi era una squadra totalmente diversa quindi una squadra in forma ma soprattutto non facile per la Roma perché comunque partiva dall'inizio senza Di Bale e Pellegrini e al quattordicesimo quindicesimo esce Tami Abram per infortunio al volto quindi praticamente mancavano tre giocatori fondamentali nel reparto Roma fondamentali nonostante tutto la Roma comunque è riuscita a fare una signora partita a soffrire veramente poco il Verona nel primo tempo infatti mi ricordo solamente un tiro di Tamezza alto spalla traversa e un tiro di Lazovic però a parte di Tepila di Patrizio tanto per l'azione di era su un calcio di punizione dove Lazovic parte ed era anche in fuorigioco quindi nel senso Roma molto attenta invece la Roma qualcosina in più ha costruito assolutamente sì ha avuto comunque il tiro di El Ciarawi dove praticamente blocca Montipò il tiro di Spinazzola anche devi deviato e fa pagare una traiettoria brutta la palla infatti Montipò è così tra una parata e mandarla in calcio d'angolo devo dire che comunque bella partita Spinazzola oggi l'ho visto bello pimpante e poi ragazzi soprattutto l'azione del gol è bellissima l'azione del gol è bellissima perché vedi Bove che dà questa palla cristante che di prima la serve a Spinazzola che anche Spinazzola di prima la dà di tacco a Solbaken che segue la l'azione è più veloce di Davidovic Solbaken in spaccata tira e comunque trova un bellissimo gol angolato nell'angolino e la Roma va avanti così solo 1 a 0 secondo tempo onestamente parlando il Verona a parte un calcio di punizione di Duda dove era un tiro in porta dove lui partisse e ha costato la parata onestamente parlando non ha fatto non ha fatto molto non ha fatto molto la Roma ha gestito tranquillamente secondo il mio punto di vista senza soffrire neanche tanto ci ha provato tipo un gonge o un gonge i telefonisti da fuori aria ma alto 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 mentre la Roma ha avuto sicuramente un'occasione enorme nel finale i calci piazzati lo sappiamo sono sempre un punto di forza per questa Roma questo angolo sul secondo palo c'è la torre di Bagnez per Belotti che stacca di testa e gira molto bene il palone forte e preciso nell'angolino Montipoli ragazzi ha dei riflessi clamorosi e fa una parata veramente veramente importante Montipoli perché veramente Tori Belotti era forte angolato ma poi arrivava anche la posizione abbastanza vicina alla porta per quello anche non era semplice e invece Montipoli fa veramente un bel miracolo per il resto niente una Roma che ripeto vince e si tiene là sopra Verona che non si deve scoraggiare per quanto mi riguarda perché ha fatto un cammino interessante nelle ultime partite non sono queste ovvio poi se le vinci o le pareggi che ti porti qualcosa a casa tanto di cappello meglio ancora però non si devono scoraggiare perché non sono queste le partite dove tu comunque ti devi portare obbligatoriamente la pagnota a casa cioè se contro la Roma all'Olimpico se perdi un passo falso a mio avviso ci può stare a mio avviso sicuramente ci può stare non ho capito però il cambio di Lazovic al 56esimo o 60esimo perché Lazovic è quel giocatore in più che ti può fare la differenza non l'avrei tolto se fossi stato l'avviso del Verona non l'avrei tolto si rivede anche Wijnaldum all'Olimpico perché va già esordito un rientro comunque importante pure lui e ragazzi se questa Roma inizia anche a vincere comunque senza di bala Pellegrini e Tami Abra che comunque è uscito subito è un buon segnale è un buon segnale che la squadra è compatta che la squadra è presente che la squadra c'è perché poi anche Cristante oggi ha fatto una signora partita ha recuperato un sacco di palloni Karlsdorp ha fatto il suo cioè nel senso oggi la Roma ha giocato ovviamente tutti bene hanno vinto la squadra soffrendo tra virgolette non chissà quali occasioni però forse magari la spinta del Verona l'hanno contenuta con una buona difesa Smalling, Ibanez, Mancini comunque dietro erano molto ordinati e niente complimenti a loro ragazzi complimenti veramente a loro Solbaken, Solbaken esogliò la titolare gol, anche bel gol complimenti dai questo talentino è capitato norvegese vedremo come si comporterà anche in futuro ragazzi niente, voglio dire che il video può finire qua se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando, commentate in questi commenti fate sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questa video qua tra Roma e la Sveglia di tempo la vostra e soprattutto ragazzi anche se vi piacere iscrizione al canale che è fondamentale non costa nulla per vedere tanto basta che fate clic su iscriviti se è iscriviti se non costa nulla mi supporre così non solo fatevi un cazzo di cuore con dei video che i vostri e se iscrivete anche loro e attivate le prime notifiche così non perdete i prossimi video che usciranno link in sezione anche alla guardia di Fusi Channel e link in sezione anche al mio video di Twitter credo che è tutto bella